Un'ampia e profonda circolazione depressionaria con perno in prossimità della Scandinavia sta determinando condizioni di forte maltempo su buona parte del nostro continente. La nostra regione è interessata da un flusso di correnti umide e temperate provenienti dall'Atlantico, grazie alla presenza di un canale depressionario esteso dall'Abrador al Mediterraneo e in seno al quale nel corso di questo fine settimana transiteranno due perturbazioni dirette verso la nostra regione. La prima ci interesserà nella prossima notte determinando abbondanti precipitazioni mentre la seconda, molto più intensa, giungerà nella giornata di domenica causando un forte peggioramento con biogge che potrebbero assumere localmente anche carattere di nubifraggio. Una situazione abbastanza delicata che potrebbe determinare criticità a livello idrogeologico. Inoltre, entrambi i fronti perturbati saranno accompagnati da intensi venti con raffiche che nella giornata di domenica potrebbero raggiungere il grado di burrasca forte. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani, sabato 23 gennaio, al mattino cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, specie nelle primissime ore della giornata, nevicate in appennino al di sopra dei 1300-1400 metri. Nel corso della giornata avremo temporanee schiarite con pause asciutte, temperature lieve diminuzione, venti forti da ovest e mare agitato con possibili mareggiate. Domenica 24 cielo da molto nuvoloso accoperto con precipitazioni in intensificazione. I fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità nel corso del pomeriggio con possibilità di nubifragi su molte località, nevicati inizialmente sulle cime dell'Appennino ma con limite in calo entro la serata fin sui 1000 metri. Venti molto forti da prima da Libeccio e successivamente da ovest nord-ovest, mare molto agitato fino a grosso allargo con mareggiate lungo tutta la costa. Lunedì ancora condizioni di instabilità con residue precipitazioni in attesa di una sensibile diminuzione delle temperature che dovrebbe interessarci tra martedì e mercoledì. Ritorno temporaneo del freddo dunque che non dovrebbe essere però accompagnato da precipitazioni di rilievo ma con possibilità solo di qualche spruzzata di neve nelle aree interne a quote di media alta collina. Questo tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio. A seguire probabilmente interverrà l'alta pressione dalle azzorre che proprio nei cosiddetti giorni della merla dunque in coincidenza con il fine settimana 30-31 gennaio potrebbe determinare una fase di tempo più stabile con temperature molto miti. Una tendenza questa che ha bisogno ancora di ulteriori conferme e pertanto invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.mediogiuliacci.it. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.